Premio Crescendo Premio Crescendo al Fortissimo che è una collaborazione con l'orchestra della Toscana dove io faccio il primo violoncello e carinamente la direzione artistica dell'orchestra offrirà uno o più concerti fra i vincitori del premio Crescendo che si esibiranno da solista con l'orchestra, quindi un'occasione unica che rende il concorso ancora più importante nel panorama internazionale.